Di che pasta fosse fatto lo aveva già dimostrato ai napoletani in occasione della gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra il Napoli e lo Suonzi, disputata il 20 febbraio scorso al San Paolo in cui segnò il gol della bandiera per i cigni di Monk. Ma il suo approdo alla corte di De Laurentiis non aveva entusiasmato i tifosi azzurri, che però adesso iniziano a ricredersi sul valore del jolly di centrocampo Jonathan De Guzman, padre filippino e madre giamaicana ma naturalizzato olandese. Con la pesante rete firmata di sinistro al 95esimo nella prima di campionato contro il Genoa al Ferraris, il 27enne destro naturale, oltre ad avere dato tre punti preziosissimi ai partenopei, ha fatto appena intravedere di che cosa è capace nei 22 minuti che Benitez gli ha concesso, facendolo subentrare al posto di Amsic al 68esimo della ripresa. Non poteva insomma sognare un debutto più felice in azzurro De Guzman, arrivato al Napoli dopo aver indossato le maglie di Feyenoord, squadra in cui è cresciuto calcisticamente Maggiorca, Vigliareale e Swansi. Con i gallesi in Premier League l'olandese ha disputato le ultime due stagioni, facendosi notare per la sua versatilità. Ha infatti giocato sia come trequartista suo ruolo naturale, che come centrocampista centrale ed esterno offensivo di centrocampo. E sono state proprio queste sue caratteristiche a calamitare su di sé l'attenzione di Benitez, che lo ha espressamente voluto per la sua duttilità tattica.